ciao ecco un sito dove poter fare acquisti su internet un sito cinese che comunque è abbastanza affidabile io credo al cento per cento perché ho fatto un solo acquisto sinceramente ma e non ho avuto nessun tipo di problema poi quindi non vi saprei dire ma per me è un ottimo sito anche perché i prezzi sono sono ottimi specie se cercate oggetti tecnologici come dual come telefono cellulari o smartwatch ecco qua come nuovi arrivi ecco cosa c'è come nuovi arrivi prezzi sono buoni come vedi 48 per cento off in 5 per cento 5 per cento di risparmio se andate a fare i confronti con altri siti vedete che i prezzi sono sono davvero di buoni prezzi però ovviamente dovete sapere cosa comprare cosa scegliere però ecco qua e ci sono anche un bel po di prodotti vabbè vi saluto per andare su questo sito basta andare il link è questo qua e questo che io vi ho sottolineato è avere boeing punto netto eccolo qua ok vi saluto buoni acquisti a tutti ciao raga grazie grazie grazie